ah buongiorno nuova giornata a joji dream ring oh sniper dimmi tutto poi ciao e tra due uno due giorni io torno a joji buono buono vabbè adesso io devo andare a lavorare quindi al massimo se vuoi stasera giochiamo un po al computer va bene si va benissimo va bene ciao ciao vado al lavoro passiamo di qua dai dalla nuova strada qua che hanno fatto a joji vado di qua ok ecco qua il negozio di informatica il mio nuovo lavoro e parcheggio la moto qua perfetto dai che tra poco tra qualche giorno tornerà sniper me ne avrò qualcuno qua iniziamo a lavorare dopo circa due ore e mezza di lavoro e anche questa giornata dura di lavoro è finita un certo languorino non c'ho tanta voglia di cucinare vabbè andrò al mcdonald dovrebbe 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 essere qua hanno aperto un mcdonald da poco metto la moto ok salve buongiorno buongiorno un pan un menù grande ma mi scusi ma sei sniper surprise ma dovevi tornare tra uno o due giorni alla fine sono tornato prima ma che il look nuovo e non lavoravi all'ospedale no ma mi avevano detto che lavoravi all'ospedale vabbè dammi dai pimpi sto menù dai tieni la carta che pago no no è gratis addirittura è gratis e gratis tranquillo allora mi metto già sedere oh vieni qua che mi devi raccontare le vacanze come sono andate a charme shake vabbè vabbè allora come è andato bello il mare bene ma era bello bello si è divertito si si vabbè dai ci sta oh noi dovremmo fare una vacanza prima o poi qua non qua joji lontano vabbè ci abbediamo qua joji e vabbè perché io ero andata in vacanza la in montagna le montagne di joji ah sì passa circa un'ora e mezza e io e sniper continuiamo a parlare ah sniper si è fatto tardi meglio che ci ritiriamo si è tutto qua il de gozzi intanto vai oh comunque ottimi panini eh ma la vuoi solo tu qui? eh infatti io eh sì purtroppo solo io per ora ah ok ma te ancora Gojo non l'hai conosciuto vero? hai visto solo la casa? sì infatti però mi chiedevo proprio di chi era quella casa è un francese che è venuto qua a abitare a joji perché voleva stare un po' qua vabbè adesso torniamo ti accompagni a casa tanto ma poi voi francesi mi sa che amano decorare le case con delle luci perché qua ho modificato un po' di roba e con delle melme vabbè sniper posso stare da qua a giocare nella tua postazione? non lo so perché non mi ricordo se avevo due sedi o uno vabbè nel dubbio sto in piedi ah infatti ne avevo due da sola vabbè sto in piedi sto in piedi giochiamo a Fall Guys va benissimo vai 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 oh lì c'è la corona c'è la corona vai 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 sì sì full mountain vai presa grande vittoria vabbè dai vabbè io sniper vado a casa che ho sono ciao sniper ciao che sono che sono che sono fammi prendere sta moto va che bello sniper è tornato in anticipo da Sherman Shake vabbè dai meglio almeno mi divertirò di più fammi chiudere sta porta fammi andare in camera va ciao l'amore come va va in bello dai letuccio caldo caldo buonanotte metri neri se giriamo nel retro del Porsche dai scegli la skin muoiti vuoi che ti metto pattugliatore di plastica no questa metto la scena tutto tutto in nero e la metto a fine video backstage eh ce la sei ci sei no è che metti una skin a caso questa andrà più che bene metti quella che usavi con Gabri che avevi usato con Gabri vabbè mettine quella che vuoi metti quella che vuoi io tra poco inizio adesso taglierò sta parte dimmi quando sei al burger che faccio la parte di tipo dopo due ore e poi dico faccio la scena tu non hai capito che io ho fatto tutto il giro ma sei al burger sì sono appena arrivato e vai alla cassa aspetta che devo entrare aspetta questa la metterò sempre nella parte in nero alla fine ma tu non hai capito che è successo vai vabbè dove minchia stai andando che non abbiamo ancora inventato non hanno ancora inventato l'avventura vabbè ragazzi sto facendo questa clip a parte dal video perché non voglio fare un video intero perché sprechiamo tra virgolette una puntata ragazzi volevo rispondere a un po' di commenti in questo minutino a parte grazie per i complimenti che vi sta piacendo molto la serie e ovviamente molti mi chiedo di continuare continuerò molti mi chiedo anche di avere la mia amicizia farò un video cioè vi spiegherò nel video di domani probabilmente la cosa delle amicizie quindi aspettate un po' comunque grazie e complimenti e una persona Gabriele Mari ti saluto ciao mi ha consigliato di a fine video e inizio video di salutare delle persone che scrivono nei commenti quindi ragazzi se volete essere salutati scrivetelo giù nei commenti e ovviamente ditemi se vi piace il video e datemi delle idee come per esempio alcuni di voi avete fatto infatti ho preso spunto dai commenti per fare questo video e leggendo un attimo i commenti vabbè comunque i commenti sono questi se volete essere salutati scrivetelo dai ragazzi che mancano solo 9 iscritti adesso che so è mercoledì 16 agosto alle 18 e 17 sono a 2291 iscritti quindi se riuscite a farlo per il mio compleanno cioè tra due giorni farmi arrivare a 2300 sarei felice niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi appunto datemi delle idee se volete essere salutati iscrivetelo giù niente spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi e niente noi ci vediamo a un prossimo video ciao ciao ciao